LORIS DAITONA LORIS DAITONA è balzato in vetta a tutte le classifiche con il suo romanzo TILOVO è un caso editoriale senza precedenti l'autore del libro ha solo 16 anni e fine ha fatto LORIS DAITONA Tu ti rendi conto che Calabrese ho dodicesimo che te rifiuti Ce lo rifiuta vorrei dire e che siamo una squadra solo quando fa comodo a te Sono sei anni che sei a casa mia e non mi hai mai pagato l'affitto a parte che le fan che avevo dieci anni fa spero siano cresciute e che legano qualcosa di più sofisticato rispetto a TILOVO Ti hai scritto un romanzetto di merda letto da arrapati adolescenti imbecilli come te Non sai saltare mai più a toccare mia figlia Ma chi ha con le occe? Tu sei una meteora! Sei un fallito! Scappo Scappo dalla vita Aneno Ma che parli come i baci peruggini Apri le ali di cera E vola verso il sole Per un errore Giustizia è fatta Sono errori Abbiamo problemi Abbiamo problemi Bate Il counselio Abbiamo problemi